oh guarda che johnny ti sta cercando chi johnny sta là aspetta qui vado a sentire oh la buona seta è arrivata dai che compare a seta dino dammi un crotino quindi non è che volevi portarlo da twin ma il mio pagamento è fighissimo quel tatooine sicuro vabbè dai vabbè dai c'è il palmone ma no 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 che attitti ma ora sti muoli muoli Diamo mani! Cashew, un bicchiere, una vetta all'arancia e un crodino!